Il coccolo là dentro. Diciamo che ho iniziato ad avere la passione, penso come tutti poi i ragazzi degli anni 70, perché i flipper e i primi videogiochi erano gli unici apparecchi che trovavi nei locali in quegli anni. Sono cose di nicchia, diciamo, però appunto nella loro unicità un interesse ce l'hanno. È difficile dare un valore, quando ho iniziato a raccoglierla e anche adesso molte volte viene buttata via perché è vecchia. Per i collezionisti, poi dipende come è messa, eccetera, ha un discreto valore. Hanno la caratteristica che possono essere giocati, non è roba delicata perché è costruita per stare nei bar, nei locali pubblici, quindi a differenza di tanti altri musei, anche di giocattoli, eccetera, dove però la roba non si può toccare, questi si possono benissimo utilizzare. Una delle particolarità è che noi invece raccogliamo solo roba italiana, o per lo più roba italiana, che per i tre quarti tra l'altro viene costruita a Bologna e dintorni, tipo Calderara di Reno, Zano, Granarolo. Negli anni 60 e 70 ci sono state una quarantina di aziende. Abbiamo trovato ospitalità lì all'ERC San Putensi, siamo stati lì un sei anni, poi anche noi abbiamo tentato l'esperimento perché non sapevamo se era, ad esempio, una cosa che interessava solo a noi in quanto appassionati o se poteva interessare anche a gente che neanche li aveva mai visti, perché i ragazzi di oggi, ad esempio, Flipper non sa neanche cosa sono. Allora abbiamo messo un po' di questi apparecchi e abbiamo visto che, a parte i genitori che portavano i figli con la scusa di giocare poi loro, però effettivamente, col fatto che comunque erano giochi da utilizzare, abbiamo avuto un discreto successo, appunto che poi ci hanno anche inserito nelle guide turistiche, all'Only Planet, eccetera, perché effettivamente di cose simili in giro non ce n'è. E molti, specialmente stranieri, di passaggio da Bologna mi contattano, mi chiamano per sapere che orari siamo aperti, eccetera, e poi c'è anche molta gente che non lo sa e ancora va là in via Stalingrado, trova chiuso, cercano su internet e mi contattano. Ah, in media almeno 4-5 ogni mese mi contattano, chiaramente gente di fuori Bologna, che non può sapere che lì non c'è più niente, ma siamo rimasti lì sei anni e appunto la cosa aveva avuto un discreto successo. Poi appunto purtroppo è stata venduta l'asta tutta la palazzina, lì è stato svuotato, tutte le associazioni tra cui noi ci siamo tutti divisi, ognuno dove ha trovato. Tra le altre cose abbiamo una biblioteca di volumi, di libri, riviste, pubblicazioni in genere sui giochi, non solo Flipper ma anche videogiochi, storia del gioco, che con dei volumi dagli anni 30 fino ad oggi. Sono circa comunque un 1500 volumi. Abbiamo l'intera lista sul nostro sito, tilt.it, anche quello ogni tanto veniamo contattati da studenti che vorrebbero consultarla per delle tesi, cose del genere, però chiaramente è abbastanza impossibile al momento. È chiaro che anche solo ogni volta traslocare è roba con dei vetri, è roba che comunque a spostarla si rovina, poi a custodirla in magazzini tipo questo, che per carità appunto è gratuito, però non è che sia ottimale, piove dentro, è umido e tutto. Sarebbe bello in effetti, senza perdere troppo tempo, riuscire a ritornare a fare una cosa simile e anche più organizzata, in modo da non disperdere l'esperienza che c'è stata. Ecco.